Cosa abbiamo qui? Boss fight? Esatto! Mannaggia! Sotto che c'è? Oh, siamo arrivati ormai alla fine. Non mi fa neanche vedere la mappa, quindi sì. Siamo alla fine. Qua non posso andarci. Oh, la pace. Bene. Si fa in velocità, lo sapevo. Bene. E' preso. Sì, però... ... Oh no! Ah se non mi muovo salgono le fiamme Dio mio Ok non posso saltare Allora dico subito che non ho voluto parlare e non parlerò proprio perché è il gioco che parla da sé E non voglio rovinarlo troppo ecco Non posso saltare Ah ci sono che spavento Ok salta 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 Ok salta